Finalmente buone notizie per la montagna teramana perché il 25 gennaio la seggio cabinovia dei prati di Tivo riaprirà per gli amanti della neve. A gestirla come ipotizzato in questi ultimi giorni sarà l'imprenditore a scolano Marco Finori, titolare dell'omonime SRL, che ha presentato l'offerta delle tre giudicata migliore dall'assemblea dei soci della Gran Sasso Teramano che si è riunita ieri in serata. L'idea vincente di Finori è il rilancio della stazione turistica con eventi, campioni dello sport e la riattivazione dei due rifugi di Ruto e delle guide a monte della seggio cabinovia e nei boschi dei prati bassi. Forse anche il 24 per giovedì stiamo organizzando tutto quanto per giovedì, stiamo già facendo i collaudi e addirittura stiamo vedendo di cercare di fare le manutenzioni nonostante la neve anche di altri impianti, di riaprire non solo la cabinovia ma anche di un altro impianto, forse la quadriposto che è la più facile. Abbiamo trovato un caposervizi molto molto bravo, siamo stati fortunati dopo qualche giorno di sventura e queste sono le ultimissime novità. Però adesso c'è tutta la parte burocratica per volturare le licenze che è un iter veramente lungo. L'unico che ci darà una mano è sicuramente il presidente della provincia e l'ingegnere Gordeschi. Grande soddisfazione da parte del presidente della provincia di Terramo, Diego di Bonaventura. Io credo sempre nei miracoli, nei sogni, quando ci si lavora insieme per arrivare ad un obiettivo le cose arrivano. Si è trovato un imprenditore marchigiano a cui va il mio ringraziamento perché ha creduto e scommette su una nuova opportunità di turismo montano. Ed è anche bello che per la prima volta si apre le porte ad un caposervizi che è un ingegnere trentino. E oltre a fare il caposervizi porterà quel know-how, quella esperienza che gli impianti del nord hanno e può essere solamente un'opportunità di crescere. Sono felice perché tutti dicevano che era impossibile perché non si trovava il caposervizi, non si trovava il gestore qui in provincia, qui in regione. Invece senza paura, aprendo a nuovi scenari, sono arrivate le nuove opportunità.